Perché tumultuano le nazioni e meditano i popoli cose vane? I re della terra si ritrovano, e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo, rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne risiederà. Il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira, e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure dirà, io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse, tu sei il mio figliuolo, oggi io t'ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Tu le fiaccherai con uno scettro di ferro, tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Ora dunque, o re, siate savi. Lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, che talora l'Eterno non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché d'un tratto l'ira sua può divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui.